Due citazioni per danni da parte di Silvio Berlusconi per un totale di 2 milioni di euro sono state ricevute dal quotidiano L'Unità. La direzione del giornale ha fatto sapere che il premier ha anche chiesto la condanna a una pena pecuniaria di 200 mila euro ciascuna per il direttore dell'Unità Concita De Gregorio, le giornaliste Lombardo e Fantozzi, l'opinionista Oppo e la scrittrice Ballestra. La richiesta si riferisce a tutti i servizi dedicati allo scandalo sessuale che ha coinvolto il presidente del Consiglio.